Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca un tentativo di introduzione di droga nel carcere Eretino di San Benedetto. Un uomo stava facendo infatti il suo ingresso nella casa circondariale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare tentando di nascondere un involucro contenente sostanza stupefacente nelle parti intime. All'entrata del carcere è stato oggetto di una curata ispezione che ha permesso di rinvenire l'involucro e l'uomo recidivo è stato denunciato da parte della CISL che ha reso nota questa notizia il applauso alla polizia penitenziaria di Arezzo. Nel pomeriggio invece un incidente lungo la strada regionale 73 all'altezza del Torrino. Un'auto è finita fuori dalla carreggiata sul posto, i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale. E adesso torniamo a parlare delle stragi nazifasciste del 44. arriva un'altra ammazzata sul procedimento per il risarcimento, questa volta si parla di prescrizione. Un pezzo dello Stato che agisce contro l'interesse dei cittadini, il cui interesse invece dovrebbe tutelare. Questo è incomprensibile. Dopo le sentenze di risarcimento impugnate dall'Avvocatura di Stato per le stragi naziste del 1944 adesso è arrivata anche l'eccezione di prescrizione civile sollevata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze lo stesso MEF che teoricamente dovrebbe ripagare gli eredi delle vittime di allora attraverso il fondo previsto in un capitolo del PNRR e a quanto accaduto al signor Sestilio, supersite del massacro di Civitella quel 29 giugno del 1944 aveva appena 4 anni. Era presente, perse il padre e questo fa ancora più male francamente perché è incomprensibile quello che si sta facendo. La sentenza definitiva di Cassazione sulla strage di Civitella nella quale persero la vita 244 persone risale al 21 ottobre del 2008. Al signor Sestilio è stato riconosciuto un risarcimento e dopo che abbiamo avanzato la domanda di liquidazione del danno da parte del fondo il Ministero dell'Economia ha eccepito la prescrizione in quanto secondo il Ministero avrebbe dovuto eseguire la sentenza di condanna nei confronti, a questo punto, degli eredi del militare condannato nei dieci anni precedenti. Questa decisione non è solo tecnicamente errata ma sotto un profilo, diciamo, politico-morale è un qualche cosa di molto grave. Il timore adesso è quello dell'effetto a catena. La sentenza per l'accidio di Falsano nel Cortonese infatti del 2006 dell'anno successivo, quella di Sant'Anna la più grave dell'intera Toscana con oltre 500 vittime. Francamente questo ostruzionismo che stiamo misurando sia nelle aule giudiziarie che in questa occasione con la domanda di liquidazione di un danno già liquidato è un qualche cosa che stride con la decisione che era stata assunta solo due anni fa di istituire questo fondo. Sappiamo in mezzo c'è stato un cambio di governo sarebbe utile capire se vi è un ripensamento sulla possibilità che finalmente si è messo un punto a queste vicende o se è solamente una questione tecnica e come tale vado affrontata. Io ho qualche dubbio che sia solo una questione tecnica. I familiari adesso stanno valutando il ricorso al TAR. Questo espone i familiari a ingenti costi ad un allungamento significativo dei tempi e come tutti i processi li espone a delle incertezze. Quindi sono da valutare, da calibrare con molta attenzione le risposte ma certamente una risposta la daremo. Dopo i blitz avandalico a Sansepolcro le forze di maggioranza consigliare hanno presentato un ordine dell'aggiorno in materia di sicurezza. È stato redatto da Borgo al Centro Cittadini per Sansepolcro, Forza Italia, Lega, Moderati e Riformisti all'indomani di quanto è accaduto lo scorso fine settimana nel centro storico di Sansepolcro. L'atto è indirizzato al prefetto di Arezzo e chiede un potenziamento immediato della presenza di tutori dell'ordine in particolare nelle ore notturne specialmente nei fini di settimana e in coincidenza di eventi di richiamo. E da inizio dicembre invece sono state quattro le fughe di monossido di carbonio in provincia di Arezzo. Vediamo come proteggersi. Quattro casi in un mese nell'Aretino decine le persone soccorse e adesso anche un decesso in Toscana a Fiesole. Il monossido di carbonio, ribattezzato killer silenzioso, ha causato la morte di un senza fissa dimora di 30 anni marocchino che si era rifugiato in una casa abbandonata. La morte è da ricondurre alle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da un bracere a legna che l'uomo usava per riscaldarsi. Nell'Aretino c'è stato invece il caso di Pergo a Cortona il giorno dell'Epifania e nelle scorse ore due casi distinti uno in un luogo di ristoro l'altro in un appartamento prima ancora lo scorso 11 dicembre un altro caso in Val D'Arno. Dottor Zanobetti, altri casi di intossicazione come nel caso di Pergo sono stati i primissimi ad accorgersene proprio gli operatori del 118? Eh sì, sono stati chiamati in un'abitazione per una perdita di coscienza di una giovane donna e ovviamente entrati dentro hanno dei sensori che subito sensibilizzano il tutto e dicono che c'è sicuramente l'ossido di carbonio dentro la stanza. Molti di coloro che hanno inalato il monossido di carbonio hanno avuto bisogno della camera iperbarica. La terapia dell'intossicazione di ossido di carbonio fondamentalmente è una terapia basata con l'ossigeno l'ossigeno terapia ad altissimi flussi ad alta percentuale di CO2 quindi il 100% di ossigeno però in certi casi in base a quanto l'emoglobina è legata all'ossido di carbonio non ce la facciamo con la normale terapia al 100% di ossigeno ma i pazienti necessitano della terapia iperbarica quindi per valori superiori ad un tot di carbossi e emoglobina i pazienti devono essere sicuramente centralizzati nei posti dove viene fatta la terapia iperbarica nello specifico Firenze o nella nostra area vasta al Grosseto. Con l'arrivo del freddo anche se secondo gli esperti sono molti i giorni in cui le medie stagionali sono state superate gli impianti di riscaldamento sono tornati in funzione sono molti quelli se non revisionati o difettosi che possono essere pericolosi. La prima cosa da fare ovviamente in questo periodo invernale è cercare di fare in modo tale che quando siamo vicino a delle fonti possibili di emissione nei ambienti chiusi ci sia una reazione importante i camini sono i principali killer. Ma come riconoscere l'avvelenamento da monossido? I primi sintomi sono sicuramente la cefalea, la nausea è importante, la stanchezza è importante però possono esordire anche proprio con delle vere e proprie perdite di coscienza e quindi la prima cosa da fare ovviamente è chiamare 112 per essere soccorsi. Non è di vostra competenza ma ecco il controllo delle fonti di calore è sicuramente il primo accorgimento insomma. Il primo accorgimento, la diagnosi non è nemmeno difficile per i medici d'urgenza una volta avuti questi sintomi collegati al fatto che siamo in inverno è molto semplice, basta un esame del sangue arterioso che si chiama emogas analisi e andare a vedere l'ossido di carbonio quanto l'emoglobina è legata e quindi la diagnosi non è difficile. Bisogna pensarci e caratterizzarla per il periodo invernale e per la provenienza dei pazienti. Il centro autismo Colle della Pionta diventerà realtà grazie al protocollo operativo di intesa siglato questa mattina da Asla Toscana Sud-Est e Comune di Arezzo. Quello che vedete alle mie spalle diventerà il nuovo centro autismo della Asla Toscana Sud-Est. Per le province dunque di Arezzo, Siena e Grosseto siamo al Colle del Pionta ad Arezzo e questo potrebbe anche diventare un punto di riferimento regionale. Sicuramente sì perché rappresenta il luogo dell'incontro e della gestione tra Asla, associazioni composte da famiglie e istituzioni come in questo caso il Comune di Arezzo e poi i comuni di tutta la zona retina. La struttura che si trova nel Colle del Pionta ad Arezzo non è ancora terminata. Si parla della prossima primavera per la fine dei lavori. Intanto questa mattina è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Asla Toscana Sud-Est e Comune di Arezzo dove si definiscono e si disciplinano i rapporti tra azienda e comune. Una struttura per circa 2 milioni e mezzo di investimento tra Comune e Asla fortemente voluta dalle famiglie riunite nelle varie associazioni. Il loro apporto anche alla gestione della struttura sarà attraverso la fondazione del Comune di Arezzo, Arezzo Comunità. Da un punto di vista tecnico stiamo ragionando in questo momento in che modo? Certamente attraverso la loro presenza come soggetti protagonisti della fondazione che non sarà il gestore ma sarà il facilitatore per la loro gestione in una combinata e fortunata condizione che vedi in questo momento le associazioni che hanno diritto di poter essere coprogettatori di questo spazio e essere anche tutti i soci della fondazione Arezzo Comunità. E nei progetti della Asla anche quello di aumentare il personale. E rinforzare la dotazione organica ma non solo di neuropsichiatri ma anche di tecnici della neuro-riabilitazione e logopedisti. La questione purtroppo è che sono figure abbastanza rare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. auspichiamo che la creazione di questo centro che è un'esperienza abbastanza unica in Italia possa costituire un motore attrattore di professionisti che altrimenti preferirebbero altre aziende e altri luoghi. La commissione mista conciliativa dell'Asla Toscana Sudessa si rinnova a seguito della scadenza della precedente commissione. La presentazione dei componenti con il presidente nominato da Lucia Annibali titolare della difesa civica in Toscana è in programma per il prossimo venerdì all'auditorium a San Donato di Arezzo. La commissione mista conciliativa è uno strumento a disposizione di cittadini e cittadine per dirimere controversie che non hanno trovato soddisfazione con l'ufficio relazioni con il pubblico. E adesso voltiamo pagina per parlare delle elezioni della 2024. saranno a livello nazionale, europee, regionali e amministrative con importanti novità anche in provincia di Arezzo. Elezioni europee, regionali ed amministrative nel 2024 sarà così election day in data sabato 8 e domenica 9 giugno. Manca ancora l'ufficialità ma l'intenzione del governo appare chiara. La fumata bianca arriverà durante il prossimo consiglio dei ministri. L'Unione europea ha da tempo reso note le date delle elezioni europee 2024. I 27 paesi dovranno recarsi ai seggi tra il 6 e il 9 giugno con l'Italia che avrebbe deciso di votare sabato 8 e domenica 9 giugno. Per tutti gli stati membri poi lo spoglio inizierà in contemporanea le 23 di domenica 9 giugno. Questo vorrà dire che lo scrutinio dei voti per le regionali e per le amministrative avverrà in un secondo momento, ovvero potrebbe essere il primo pomeriggio di lunedì 10 giugno. Altra importante decisione adottata dal governo riguarda i sindaci dei comuni con più di 5.000 abitanti fino ai 15.000 potranno infatti candidarsi per un terzo mandato dove ora vige il limite di due mandati di fila. Molti i sindaci anche in provincia di Arezzo che potrebbero così considerare la terza candidatura. Nell'Aretino saranno 26 i comuni chiamati al voto nel 2024. Verso le elezioni amministrative anche la comune di Cortona il centro-destra Aretino è compatto ed è in direttura ad arrivo per la scelta del candidato sindaco che non sarà però il primo cittadinuscente Luciano Meoni. Il profilo più forte in campo è quello di Nicola Carini, esponente di Fratelli d'Italia. L'alternativa potrebbe essere quella del leghista Marco Casucci. Per Meoni dunque due le strade è possibile o appoggiare il candidato sindaco oppure percorrere una corsa in solitaria. Il centro-sinistra invece anche se ancora manca l'ufficialità ha scelto Andrea Vignini di nuovo in corsa dunque per un incarico che ha già ricoperto nel decennio 2004-2014. E in città invece ad accendere le polemiche ancora una volta il servizio mensa. Vediamo il servizio. Mi scuso con le famiglie, è tutta colpa mia. È già stata inviata la lettera che metta a disposizione o la data del 22 o quella del 30 gennaio per l'incontro. È questo il mio colpa dell'assessore Lucia Tanti che non si è presentata alla riunione online con i rappresentanti di mensa degli istituti comprensivi statali e delle scuole comunali della città. Lucia Tanti aggiunge Per sbaglio non ho calendarizzato, mi scusa ancora ma con una media di oltre 1000 appuntamenti l'anno è la seconda volta dal 2015 che mi succede. Il tema relativo alle menze scolastiche è finito al centro della polemica sollevata da Sara Chierici, responsabile infanzia del Partito Democratico di Arezzo. Evidentemente, ha dichiarato, l'assessore Tanti non ha cuore i ragazzi e avalla un servizio sempre peggiore senza alcun controllo. Quella porzione di pizza e quel po' di perza ha un costo di 6 euro, spiega Chierici. La richiesta che facciamo è che il menù sia perlomeno decoroso. La menza non è solo un refettorio ma anche un momento educativo e sociale. A prendere posizione poi anche i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno, dice il Guarezzo. Il tema delle menze scolastiche, hanno detto, è molto delicato e giustamente sentito dalle famiglie. Per questo chiediamo alla Giunta di mettere decisamente più impegno. Il servizio è affidato ad Elior che dal settembre 2023 si è giudicato la gestione per i prossimi 4 anni più 2 per un importo di poco superiore ai 12 milioni di euro. Questa mattina Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace davanti alla Commissione Segre per parlare della realtà. A retina. Rondine è una piccola realtà e pur essendo piccola però forse ha colto qualche cosa che ha a che vedere molto profondamente col tema di cui si occupa questa commissione, quindi il tema dell'odio. La Commissione Segre ha aperto una collaborazione istituzionale con Rondine per approfondire ed estendere il metodo a diversi livelli istituzionali collegandosi alla partnership già avviata con le Nazioni Unite. È stato Franco Vaccari, fondatore e presidente della Cittadella della Pace a descrivere al Senato italiano la realtà nata nel borgo medievale e a retino che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo. Lo ha fatto di fronte alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazioni all'odio e alla violenza presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre che scelse proprio Rondine per la sua ultima testimonianza pubblica nel 2020. Quello è stato un momento molto importante della mia vita di testimone e anche della mia vita di essere umano, di aver scelto un luogo in cui si cerca in tutti i modi la pace. In questo momento in cui l'odio sembra invece dilagare è stata posta una grande attenzione, una curiosità, una bisogna di comprensione sul metodo Rondine perché lo si riconosce come capace di, come amo dire, incenerire l'odio dove nasce, cioè nelle relazioni, educare a relazioni positive. È stato apprezzato il lavoro con le scuole, è stata data ampia possibilità di appoggiare questo lavoro, di moltiplicarne l'efficacia e di diffonderlo su tutto il territorio nazionale. Oltre all'impegno della Commissione di venire a Rondine per conoscere ancora meglio questa esperienza di cui si era sentito parlare, ma da oggi è conosciuta nella sua ultima essenza. Un invito ad illuminare monumenti e municipi di colore blu nella serata di giovedì 1 febbraio per affermare l'urgenza di costruire una cultura di pace e rispetto ai diritti umani. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra che insieme ad ANCI si è rivolta a tutte le istituzioni comunali della provincia retina per richiedere l'attuazione di un gesto volta a lanciare un messaggio simbolico di ripudio della guerra e della violenza collegata alla guerra. E dalla sezione a Rettina della Lilt, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, invece l'annuncio dell'inizio della campagna per il tesseramento per questo nuovo anno, sottolineando l'importanza cruciale per l'esistenza stessa dell'associazione e per portare avanti anche le principali campagne dalla settimana nazionale per la prevenzione oncologica, quella delle diagnosi precoci dei tumori cutanei fino alla giornata mondiale senza tabacco e alle campagne nastro rosa e nastro blu. A Castiglion Fiorentino invece torna nel giorno della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, santo protettore degli animali, la tradizionale benedizione degli animali. Ad organizzarla l'associazione Cavalieri per caso in Baldichiana con il patrocinio del comune e l'appuntamento è per domenica 21 gennaio alle 11.40 presso la chiesa della collegiata al termine della messa. A precedere l'appuntamento religioso una passeggiata trekking che permetterà di conoscere le bellezze del territorio castiglionese. Il MUMEC invece, il Museo dei mezzi di comunicazione, giovedì 18 gennaio in occasione della giornata mondiale del futuro propone un evento di scienza, arte e comunicazione d'economia circolare. L'occasione sarà la chiusura dell'esposizione attinente alla storia della telefonia cellularta inaugurata lo scorso anno e che ha visto il lancio dell'appello a visitatori curiosi e cittadini di portare i propri vecchi cellulari al museo per contribuire all'installazione che sarà presentata proprio questa settimana. E il 2024 invece per l'associazione cultura nazionale si è aperto con un appuntamento con Luca Telese. Non mi era mai successo, era uscito da pochi giorni, fu ritirato dalle librerie perché c'era stata una causa di uno dei protagonisti del libro che era l'avvocato Cesare Previti e si riteneva diffamato, non so perché, abbiamo fatto 13 anni di tribunale, ho vinto e alla fine è stato ristampato. Nel libro uno scandalo sessuale, un triplice omicidio che vede coinvolti tre personaggi della Roma bene degli anni 70 e poi un inserto fotografico attraverso il quale gran parte degli italiani si fa wire. Così è stato Luca Telese con il suo libro La Marchesa, la Villa e il Cavaliere ad aprire gli appuntamenti targati Associazione Cultura Nazionale nel 2024. Una grande storia di costume italiano, la prima volta nel 1970 che c'è uno scandalo sessuale che esplode sui giornali, arrivano foto di questa donna nuda, bellissima, vengono trafugate, stampate riviste clandestine. Insomma la Marchesa Casati Stampa fu in quel tempo un grandissimo caso perché era tante cose insieme, era l'Italia che usciva dal boom economico e cominciava a conoscere i vizi, i peccati, la diversità rispetto alla tradizione, era una grande storia mediatica e poi era un giallo perché quando i poliziotti entrarono dentro questa casa a Via Rossini, a Via Puccini, nella Roma bellissima dei Parioli, c'erano tre cadaveri, la porta della chiusa a chiave e nessuno capiva che cosa fosse successo e perché. Quindi raccontare, a me piace lavorare sugli archivi, sui giornali, ovviamente faccio un lavoro giornalista, non sono Garzia Marquez, ma mi piace moltissimo raccontare insieme a una storia il tempo che quella storia racconta e quindi noi siamo diventati gli italiani di oggi, più moderni, più lussuriosi, più, se volete, spericolati perché siamo passati attraverso questa grande rottura del costume. Prosegue la stagione alla Teatro Petrarca, primo appuntamento della 2024 con Alessio Boni e Iagliaforte, protagonisti di Iliade, il gioco degli dèi, una riscrittura del celebre poema omerico che andrà in scena mercoledì 17 gennaio alle 21. Domenica 21 invece il secondo appuntamento con la programmazione della danza che muove. In scena alle 17 al treato Mecenate di Arezzo alcune coreografie del coreografo performer e videomaker Jacopo Genna. Un dialogo continuo tra la danzatrice Ramona Caglia e una moltitudine di frammenti video montati in una sequenza serrata. E adesso apriamo la pagina dello sport. Dopo il successo sullo Spezia, l'Amen BC Servizi torna in campo domani a Castelfiorentino. Mercoledì 17 gennaio l'Amen BC Servizi Arezzo sarà in campo a Castelfiorentino per un turno infrasettimanale previsto per la sesta giornata di ritorno. La rimonta vittoriosa con lo Spezia ha dato un'iniezione di fiducia agli Amaranto che dovranno fare conti con un avversario che negli ultimi giorni ha inserito un ottimo giocatore come l'Ucraino Giaest, capace di inserirsi alla perfezione nei meccanismi di Coccia Angiolini. Castelfiorentino nel corso della stagione ha pagato a caro prezzo i tanti infortuni subiti che l'hanno relegate in una posizione di bassa classifica, non consona al reale valore della squadra. Belline, Piscali e Pucci sono infatti giocatori di prima fascia per questo campionato. Per questo motivo l'Amen BC Servizi dovrà limitare sin da subito le bocche da fuoco avversarie per evitare che possano prendere il giusto ritmo partita e sfoderare una prestazione difensiva come quella vista nel secondo tempo di domenica scorsa. L'appuntamento per la prima delle due trasferte consecutive per l'Amen BC Servizi è dunque mercoledì 17 gennaio, palla a due fissata alle 21 al palazzetto di Viale Roosevelt a Castelfiorentino. Ottima prestazione degli atleti dell'Accademia a Carate Arezzo a Certaldo domenica 14 gennaio per le qualificazioni regionali e campionati italiani assoluti Signores che si svolgeranno presso il pala Pellicone di Ostia il 2,3 e 4 febbraio. A salire sul podio Francesca Cagliottini, Francesca Di Mauro, Giulio Petrini e Malac Carti. Primi due titoli regionali nel 2024 anche per l'Aiga Atletica Arezzo. Il nuovo anno di gare ha subito regalato soddisfazioni alla società aretina che al campionato toscano in Dordi Carrara è riuscita a festeggiare due primi posti nella categoria Juniores, un secondo posto e un terzo posto. Prestazione particolarmente positiva firmata da Riccardo Cincinelli. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti.